Buonasera amici, benvenuti nel mio 125esimo giorno di dieta. Come sapete ho ripreso il pieno alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina colazione con cappuccino, un bel cappuccino tra un po' strabordava tutto, con due fette di toast integrali con i semi, burro e marmellata, sì ho usato il burro, ogni tanto lo faccio. Questa è stata la mia colazione, ma la giornata non è ricca o piena di cibo perché stanotte sono stata malissimo. Cocomero, non ho pranzato, ho fatto una sorta di merenda con il cocomero, almeno ho mangiato qualcosina. A cena, a parte che mi è esploso il barattolo del ketchup, era alla fine, pensavo che non ce ne fossi più, invece sono andata a strezzare e papapac, questo è stato tutto il pasticcio. Questi sono dei toast con un po' di hummus, l'uovo e il ketchup. Ecco, ho mangiato qualcosa perché devo prendere le medicine per il diabete, quindi dovevo mangiare per forza qualcosa. Avrei voluto farmi un po' di pasta, ma non mi andava, volevo qualcosa di più easy. E questo è stato, ciao ciao! Ciao!